Mi dite sempre che faccio video troppo lunghi, è più forte di me, mi piace parlare. Questo stesso video era stato diviso in due parti, la prima come leggete nel titolo e la seconda un'analisi su Dybala e niente, qualcosa, una statistica interessante. Quindi ve la butto lì, se questo video arriva a mille like entro un'ora dalla pubblicazione, domani mattina alle 8 vi porto subito la seconda parte, quella inerente a Paolo Dybala. Dipende da voi, mille like entro un'ora dalla pubblicazione di questo video, sono sicuro che ce la potrete fare. Salve amici, ben ritrovati nel secondo video di giornata, ma ve l'avevo detto, oggi ci sarebbero stati due contenuti e addirittura questo non doveva essere questo, avevo in mente un'altra roba che vi porterò verosimilmente domani, ma sono contento di poter parlare ancora una volta di calcio mercato. Perché andiamo ad analizzare quello che ha scritto la Gazzetta dello Sport, e cioè la Juventus avrebbe fatto All In su Gianluca Scamacca, summit prima di Natale in cui la Juventus avrebbe discusso una strategia che porta solo ed esclusivamente al nome dell'attaccante del Sassuolo, o Scamacca o niente, questo è quello che ci dice la Gazzetta dello Sport. Ora, crederci oppure no? Crederci oppure no? Non ne ho idea. Ditemi anche voi che cosa pensate di questa cosa. Io dico che Scamacca è un ottimo attaccante, un ottimo prospetto, è un classe 99, quindi al primo gennaio tra l'altro del 99 farà 22 anni tra qualche giorno, quindi un ragazzo che sì, è giovane, perché non si può dire che sia vecchio, ma non è quei giovani di 16, 17, 18 anni. È un giovane come Piaccia D'Allegri, e cioè con esperienza in Serie A. Proviamo ad analizzare un attimo la cartella di Scamacca. Un giocatore che ha giocato tra Sassuolo e Genoa, la scorsa stagione ha fatto una buona prima stagione a titolare in Serie A, e quest'anno ha fatto un ottimo girone d'andata di Serie A, per quelle che sono le caratteristiche ad oggi di Scamacca. Stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha 48 gettoni nella massima sfera italiana, con 14 gol segnati. Perché Scamacca è utile alla causa della Juventus? Perché quel classico attaccante che la Juventus ad oggi manca. Un attaccante forte, fisicamente alto, abile a giocare a spalla alla porta, e che qualche gol te lo butta dentro pure di testa. Stiamo parlando di un ragazzo di 195 cm per 85 kg, quindi veramente una statua, un fisico statuario, un giocatore che all'interno della Rosa della Juve non c'è, e che sicuramente abile nel gioco aereo andrebbe a finalizzare, a concretizzare tante azioni della Juventus, che come abbiamo visto molte volte si sviluppano per via laterali, e vanno a concretizzarsi al centro, perché la Juve è molto brava ad allargare il gioco, andare sugli esterni e poi fare un cross, dove però al centro dell'area di rigore fino ad adesso è mancato quel classico attaccante dell'area di rigore. Quindi sì per la caratteristica dell'attaccante. Ma io di Scamacca vi avevo già parlato, e vi avevo detto che in questo momento probabilmente la Juventus serve un profilo che vada a fare gol. Io ieri vi ho parlato di Mauro Riccardi, e vi ho detto che più passa il tempo, più passano i giorni, e più il nome di Icardi per me è un grande sì, a patto che sia un prestito di sei mesi. Ok? Se la Juventus poi sarà obbligata a riscattare Mauro Riccardi, allora grazie no, perché sono per il sacrificare l'immediato futuro per un futuro più avanti, perché Icardi, anche ieri qualcuno mi ha detto, sì ma Icardi non è vecchio. Certo, Icardi oggi non è vecchio, è un giocatore di 29 anni, 28 anni, quindi nel massimo no del suo momento. Il problema diventa quando Icardi sei costretto a fare 3-4 anni di contratto, quindi andiamo sui 32, 33, 34 anni, a seconda di quanti anni di contratto andremo a fare a Mauro Riccardi, contando anche i 6 mesi di prestito, allora lì sì che diventa un giocatore vecchio, invendibile, e che sostanzialmente a bilancio diventa per forza di cose un giocatore che ti crea meno svalenza perché lo cedi a meno del residuo di bilancio, oppure un giocatore che devi lasciare andare come free transfer perché ha un ingaggio troppo alto e nessuno te lo viene a prendere. Diverso è Scamacca. Il punto qual è? Che mi sembra di essere tornato all'anno scorso, e cioè a gennaio cerchi alla quarta punta, e la quarta punta è Scamacca. L'anno scorso mi ero sbilanciato, e vi ho detto Scamacca in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro per me è no. Ora ci ritroviamo, 12 mesi successivi, quello che è accaduto nel dicembre-gennaio dell'anno scorso, Scamacca o niente? L'anno scorso quarta punta Scamacca è un unico nome, e non è stato preso perché non piaceva l'idea di riscatare 25 milioni. Ora la situazione non è cambiata, perché è comunque sempre il sassuolo che detiene il caratterno di Scamacca, l'anno scorso era in prestito al Genova, quest'anno è tornato a casa e sta facendo bene nella terra, nella mia terra, Emilia Romagna, però, cioè che ad oggi il sassuolo lascia partire Scamacca in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. Io così potrei concludere il video. Ciao, grazie, alla prossima. Però non chiuderemo il video qua e cercheremo di fare un'analisi un po' più approfondita. Allora, è ovvio che detta così, Scamacca 40 milioni di euro, Scamacca o niente, e Scamacca 40 milioni di euro, mi si gela il sangue nelle vene e vado a pensare, proprio la prima cosa che dico in maniera schietta è, se andiamo a prendere Scamacca, dopo che l'anno scorso non l'abbiamo preso, a 25 milioni di euro per il riscatto obbligatorio, lo prendiamo un anno dopo, a 40 milioni di euro per il riscatto obbligatorio, siamo dei babbuini. Questa è la prima cosa che mi viene a dire. Poi cerco di scavare un po' più a fondo e cerco di darvi una risposta quanto più onesta possibile, nel senso che la Juventus ha questa filosofia, non più acquistare tanto per acquistare e non più acquistare giocatori che, come vi dicevo prima, i cardi possono proiettarsi sui futuri bilanci, quindi lungimiranza. E questa è una cosa che sicuramente apprezzo, e sono davvero disposto a sacrificare il giorno di ritorno di questa Serie A per salvare le prossime Serie A, perché in questo momento non abbiamo soldi, e quindi quei pochi soldi che abbiamo li dobbiamo investire in profili che riteniamo all'altezza della Juventus e il futuro della Juventus. Spenderei 40 milioni per Scamacca? No, ve lo dico proprio sinceramente. Io non avrei spesi neanche 60 per Chiesa, e questo vi dà l'indice del fatto che fosse stato per me Chiesa non sarebbe stato un giocatore della Juventus. Ad oggi mi sembra follia pensare di comprare uno come Chiesa a 60 milioni, perché lì è stata brava la Juventus lungimirante, andando anche contro l'opinione pubblica, andando ad acquistare un giocatore al quale io sinceramente non avrei mai dato 60 milioni di euro. Quindi bravi. Bravi perché hanno individuato in anticipo il calciatore che era prossimo ad esplodere. E Chiesa con la Juventus è letteralmente esploso. Scamacca molto probabilmente sarà il prossimo attaccante titolare della Nazionale. Bisogna vedere se riuscirà a fare il passo grande. Ed è per questo che vi dico 40 milioni di euro per Scamacca non li spenderei a patto che invece la Juventus mi venga a dire guarda, io li spendo adesso perché sono convinta, sicura che quello sarà l'attaccante del domani e che meglio di Scamacca non ce ne sono in giro al momento pronti, validi e che mi servono. A parte Vlaovic che come dice la Gazzetta però ha il problema degli 8 milioni di euro all'anno che secondo me non è meno tanto quello il problema perché io gli darei pure 8 milioni di euro all'anno Vlaovic penso pure a Juventus il punto è che non ha dagli 80 ai 100 milioni per il cartellino e questo è un altro discorso. Però vi dico anche che qualcuno potrebbe dirmi ma come? Abbiamo appena speso 38 milioni per Ken con obbligo di riscatto e ora ne spendiamo 40 per Scamacca ed è proprio questo il punto per Ken si è stato non dico obbligato ma quasi nel senso che se ne era andato Cristiano Ronaldo dove i 3 giorni per sostituirlo non si muoveva niente e si è dovuto andare su Ken però lì è una situazione di emergenza e quindi la considero in un certo modo se invece a bocce ferme fermissime la Juventus in un mercato in cui può fare come no perché lì davanti la Juventus gli uomini ce li ha non è che dice siamo sotto organico e quindi abbiamo bisogno di un giocatore per riempire liste no sei in sovrabbondanza di liste quindi a bocce ferme con un numero di giocatori adeguato se non eccessivo per finire e terminare la stagione vai sul mercato a cercare un attaccante lo individui in Scamacca proprio lui e sei disposto addirittura a spendere 40 milioni di euro se prendi Scamacca e fa bene applausissimi se prendi Scamacca e fa male in questa situazione bastonate perché per me è stata follia prendere Ken a 40 milioni di euro però lo capisco all'interno del momento di crisi però io in queste state continuo a dire se mi prendi solo Ken mi girano le balle devi prendermi un altro giocatore che magari possa spostarti il reparto da qualche altra io volevo un centrocampista cioè mi prendi Ken è un centrocampista forte Ronaldo lo hai sostituito non al 100% perché è impossibile però hai fatto il tuo hai preso solo Ken no assolutamente no però era una situazione di emergenza adesso invece hai tutto il tempo per pensarci quindi sbagliare umano perseverare diabolico continuano a spendere 40 milioni di euro per un singolo attaccante poi l'anno scorso vedi Ronaldo quindi io capisco che tu mi dici no guarda non spendo 25 milioni di euro per scamacca che ho già Cristiano Ronaldo quest'anno invece c'è proprio un problema cioè tu non fai gol quindi vai individuare in scamacca il giocatore ideale che ti piaceva dall'anno scorso ok se l'allenatore mi dice quello è il giocatore che mi serve se la dirigenza mi dice quello è il giocatore su cui vado a investire se i talent scout mi dicono quello è il giocatore che sta per esplodere io non sono nessuno per dirvi no scamacca 40 milioni di euro non è da prendere io non lo prenderei però se tutte queste condizioni vengono avverate se c'è una luce verde su tutte queste cose vi dico andate a prendere scamacca con obbligo di riscatto a 40 milioni non lo prenderei anzi io oggi vi ho parlato di Betto dell'Udinese che potrebbe essere interessato anche il Milan al profilo perché non è soddisfatto di Giroud io proverei in questo momento addirittura una trattativa se non serio l'ho detto anche qualche tempo fa su Twitter era l'opera di dicembre mi ricordo ho fatto il sondaggio e tra l'altro in tanti sia su Twitter che su Facebook che qui su YouTube mi avete detto anche io prenderei Betto Betto prima aveva parlato di scamacca 48 partite 14 gol 1,95 Betto è 1,96 per 88 kg quindi è un centimetro più alto di scamacca e pesa 3 kg di più è un 98 quindi è un anno in più di scamacca 15 partite in serie a 7 gol un giocatore forte fisicamente tanto quanto scamacca se non leggermente di più un giocatore veloce e possente che ha dimostrato di poter giocare un'attacca 2 far reparto da solo l'unese comunque gioca in coppia con un'altra punta sono sincero se devo spendere 40 milioni per scamacca delle due prima mi informo su Betto e chiedo quanto può costare Betto se poi mi dicono che costa anche lui 40-50 ti dico e poi la Juventus che deve fare un pensierino però Betto ha avuto un ottimo impatto in una squadra come l'udinese che non è la squadra wow che bella l'udinese fortissima questo gioco spumeggiante che gioca nell'area dell'avversario no è una squadra onesta una squadra che deve salvarsi e sta facendo molto bene quindi io ragionerei anche su quel nome lì la butto lì se poi arriva se volete farci un sondaggino chiedete quanto costa Betto piuttosto che Muriel ne abbiamo parlato oggi vi voglio molto bene a Muriel però Muriel ragazzi avevo 20 anni e Muriel stava iniziando a giocare a pallone ora ho 30 anni e Muriel ancora qui quindi cioè capite che a un certo punto ma lo stesso vale per i card e per quello che vi dico non ci vado a investire su scamacca capisco l'investimento perché è futuribile perché è rivendibile perché bla 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 l'abbiamo già detto però 40 milioni per scamacca mi stanno qui mi stanno qui è inutile quindi un pensierino subetto lo farei poi anche se c'è l'obbligo di riscatto e sono 30 milioni allora ragazzi pensateci bene io in una situazione in cui non ci sono soldi andrei veramente a fare all in solo sul giocatore che mi aspetto che probabilmente la Juventus in questo momento si accorta che Blauvi c'è fuori parametro e quindi sta cercando l'alternativa però tra Blauvi e scamacca secondo me c'è ancora tanta differenza e dobbiamo ricordarci che comunque la Juventus sta rinnovando il contratto di Paolo Di Bala a cifre molto alte e che quindi l'attaccante che vai a prendere oggi e che con tutta probabilità sarà l'erede di Morata che non verrà riscattato dovrà trovarsi a suo agio a convivere con Paolo Di Bala di cui parliamo nella seconda parte di questo video e come vi dicevo questo video finisce qui vi ripeto la sfida mille like entro un'ora ce la farete ma io lo so che ce la farete ma siete troppo forti grazie a tutti